La gestione delle casse del Comune di Andria finisce sotto la lente d'ingrandimento del Collegio dei Revisori dei Conti. A darne notizia sono i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle che puntano il dito contro l'amministrazione guidata dal Sindaco Giorgino per delle criticità già sottolineate in sede di approvazione del bilancio consuntivo 2015 ed evidentemente non ancora risolte. Nella nota dell'organo di controllo inviata a tutte le forze politiche vengono rilevati il ricorso strutturale ad anticipazioni di tesoreria che si attesterebbero attualmente sui 30 milioni di euro, l'utilizzo in termini di cassa, di fondi a venti specifica destinazione, la lentezza estrema nei pagamenti, circa 200 giorni in media, la lentezza nella riscossione di residui attivi ormai datati e lo squilibrio tra residui attivi e quelli passivi. I Revisori hanno esteso la nota al Sindaco, al Segretario Generale del Comune ed infine al dirigente responsabile del settore finanziario. Non avevamo dubbi, dicono i 5 Stelle, che in tutti questi mesi l'amministrazione avesse fatto pochissimo per invertire la tendenza negativa di questi dati fortemente deficitari. Restiamo in attesa, proseguono, che il responsabile del servizio finanziario, come richiesto dai Revisori, predisponga una relazione sui flussi di cassa dal 1 novembre 2016 ad oggi, con particolare riferimento all'utilizzo delle somme vincolate e alle anticipazioni di tesoreria non reintegrate. I 5 Stelle chiedono anche di conoscere l'andamento delle entrate dell'ente, in maniera specifica quelle derivanti dall'evasione tributaria. Speriamo concludono di non trovarci davanti l'ennesimo muro del Sindaco.